Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovo episodio di minecraftita, in questo nuovissimo primo giorno di vacanze Spero sia così per molti di voi, per chi invece, boh non lo so, lavorare, che cazzo, vabbè insomma è domenica che cazzo dico Ciao a tutti, allora, mi avete mandato tanti, tante versioni dell'albero di Natale Alcuni davvero belli, solo che quelli belli erano anche giganti, io purtroppo non ho tantissimo spazio su quest'isola E oltre allo spazio non ho neanche tanta voglia di fare una cosa gigante che poi tra una settimana dovrò togliere Manco tra una settimana, tra tre giorni Nella sua temporaneità, questo albero Mi sta più che bene L'unica cosa che alcuni di voi hanno suggerito e che con cui sono d'accordo E' quella di inserire delle ceste alla base Perciò le metterò tra un gradino e l'altro Fammi entrare Metterò tra un gradino e l'altro, allora me ne servono quattro Vabbè facciamo quello che posso per ora Ok Ho passato tutta la mattinata Oggi è domenica, sì Oggi ho passato tutta la mattinata Cioè tutta la mattinata Tipo dalle 7 alle 10 Beh al 9 e 50 perché sono ora alle 10 Ho passato tutta la mattinata a pulire il computer Proprio il case Non potete capire la quantità di sporcizia che c'è là dentro E se che io pulisco anche regolarmente Solo che sono andato proprio a fondo E mamma mia una bestia polvere Su polvere è un casino Non vi dico Ho impestato la stanza Comunque l'unica cosa che magari vorrei aggiungere Sono delle foglie Qui Esatto Wait qua mancano delle foglie però Con il fatto che ho dovato i tronchi l'altra volta Mi servono delle foglie Ma è da ne avevo un botto E non c'è neanche più la pala che l'ho finita Va bene Comunque nella sua Semplicità Perché è molto semplice come albero C'ha le ceste sotto Io direi che come albero Di natale Ci può stare Mi mancano giusto quelle foglie Ma mannaggia Non c'è Dovrei rifare l'albero Sì dai Per un paio di foglie Mi sa che Ne vale la pena Merda Questo sarebbe stato Un albero più bello Vabbè tanto l'avevo modificato lo stesso Surreal basta Basta rimpianti Ok Allora Cosa voglio fare oggi Allora Un'idea sarebbe stata Quella di andare In caverna ancora Ma vi spiego In caverna per illuminare Quindi S'è andato con il meccanismo di X-Ray Che era tanto che non mostro Mi sa che conviene dimostrarlo Farlo vedere un po' più di gente E Beh niente Quale è l'idea per oggi Perché ho poco tempo Però Il prossimo progetto In realtà Riguarda il nether Riguarda il nether Riguarda il nether Nella Nella sua Diciamo Come posso dire Diciamo la lobby Voglio fare Voglio fare la lobby del nether Una nether Come si chiama Hub Sì Hub La hub del nether Cioè Diciamo l'ingresso La sala d'ingresso del nether Io quando entro nel portale Voglio trovarmi in una cosa carina Non in quella merdata che c'è ora Non c'è manco un mezzo blocco Tutta schifosa Lurida E voglio creare una cosa Circolare Voglio creare Praticamente voglio creare un Un elissoide schiacciata Ai poli Una specie di astronave Insomma Una specie di astronave tonda Circolare Non proprio un astronave Perché non avrebbe senso fare un astronave nel nether Però Quello più o meno È il principio E voglio farla anche tutta O in quarzo O in clay Oppure clay quarzo Magari del vetro Ma non so Perché magari dopo Ci arrivano i ghast E mi massacrano tutto Comunque l'idea era un po' quella La svilupperò Nell'episodio di domani E Sì Nell'episodio di domani Perché l'idea di oggi Come vi ho detto Era questa qui Di andare a illuminare meglio le caverne Sempre per rendere più efficiente Il mob spawner E anche quello ha un senso Perché più efficiente Il mio mob spawner Non ti rimanere Più efficiente È il mio mob spawner Più gunpowder Mi permette di avere E la gunpowder È un elemento Essenziale Per quanto riguarda Il let's play Di minecraft survival Perché Ti aiuta tantissimo A creare degli spazi Di costruzione Letteralmente Proprio Tu con la tnt Se ne hai tanti Ah guarda la gallina è ancora qua Se hai tanti tnt Puoi radere al suolo Una montagna Eh qua bisogna ottimizzare Anche sta merda Però Interessante Interessante Ok Ok Sì sì Testa Fai da guardia Vai Vai Oh Mi mortacci Tu ha fatto un incolpo Mi prendo un po' Dovrei anche provare A stare Fk Tipo in questa zona Perché Come ricordate Abbiamo verificato Che tipo Stando Fk Tipo Qui Generano Un botto Di mob Cazzo Quanti ne sta generando Mi mortacci Su Oh Calmati Troppo efficiente Allora sì Ora vado a posare le cose Che non mi servono Per i progetti Di oggi E andiamo anche A mostrare L'xray Vado a mostrarvelo E lo mostreremo Direttamente Là sotto Così se c'è qualche caverna Che disturba E ce ne sono Perché Questa cosa accade Direttamente Dentro una ravine Una ravine Insomma Dentro un abisso Penso ci sarà Abbastanza da fare Ok Quello che ci serve Sono due Fence E Due blocchi di redstone Che andiamo a creare Al momento Perché non ne ho Ok Due blocchi di redstone È così semplice Sì è così semplice Allora Con l'ultima patch Con le ultime due o tre patch Avevano Ficsato questa cosa Ora C'è stato un ulteriore aggiornamento Siamo nella 174 ora infatti Rispetto all'ultima volta Che ho usato l'xray Quindi potrebbe Non fungere nuovamente Io ci provo lo stesso Cioè nello stesso episodio Tipo Mi avete Siamo riusciti a trovare Praticamente un exploat Anche a sta cosa Egli mortacci Mamma mia Ehi 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 Calmati Voglio dire Calma E va bene Allora senti Parliamone Quanti cazzo siete? Cioè a me fa piacere Però mamma mia Che bestia c'è Che bestia c'è Oh ma cadono come foglie Allora Bisogna scavare E trovare Una merdata del genere No Allora si scava così Si fanno trovare altro Ok Possiamo farlo Qui Allora si fa così Si chiude la zona Si prendono Due fence Si scava un blocco qua sopra Si fa Così Così Merda Così Così No Allora What the fuck Io l'ho fatto in passato Non mi ricordo come Però l'ho fatto Ehm Ah forse è al contrario Devo mettere le fence dopo O lo hanno fixato Potrebbero Averlo fixato Fammi vedere Apriamo così No Non avrebbe senso Perché sono blocchi Non Non interi Ok Allora Qui c'è un piccolo problemino Qui c'è un piccolo problemino A meno che qua non ci siano blocchi solidi Ma ci sono Apriamo così Bene Mi sa che l'hanno fixato Vado a informarmi se c'è un nuovo metodo Ci vediamo subito Ok la mia memoria mi ha ingannato Perché era giusto Come fare così Bisogna solo Piazzare un blocco Così Ecco qua Allora Allora Ehm Vedo caverne Solo illuminate Ah 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 Eh no Eh no Là c'è una bella caverna Non illuminata Qua c'è la ravine Penso che sia la ravine Vabbè è illuminata Quindi non dovrei farmi troppi problemi Lavoro delle stelle What the fuck Mi sa che è not Ok allora qua c'è lava Quindi non abbiamo problema di Spawning Apriamo Farlo In una zona migliore Ok Ehm Tipo Beh tipo prendiamo anche la res Se non si permette Grazie Allora qua c'è anche del ferro Ah Ah Ecco qua una bella zona da Illuminare Uno due tre Quattro Cinque Là c'è Là Bob spawn Ciao come ti chiami Mi chiamo su real power Perché mi devi trattare male Quando mi presento Ok Qua c'è acqua Per chi non sapesse L'acqua impedisce ai mob Di spawnare Quindi a nostra amica In queste situazioni In altre situazioni La massacra le ribotte Appendiamo il ferro Ecco qua Bisogna illuminare una zona Tipo di Dai 30 ai 60 blocchi Ma noi siamo messi piuttosto bene Perché c'è tanta lava C'è tanta acqua E c'è anche una zona Slimosa Oddio Zona slimosa Oddio Sapete cosa vuol dire Zona slimosa Vuol dire possibile Spawn di Un slime spawner Dire il vero Non è manco più Tanto utile Perché Ora nei swamp Biome Cioè nelle paludi Puoi trovarne Abizzeffe Di notte Però comunque È pericoloso Ci sono le bestie Qua c'è tanta lava Quindi non mi interessa Qua c'è tanto ferro Però mi interessa Oh Eccolo qua Non lo sacco Non lo sacco Taggerisce la verità Sono tentato Alla faccia No qua c'è tantissima lava Non ho proprio Bisogno di stare qui Aspetta A me sono venuto da qua Sì sì Mi sono venuto da qua Qua c'è tanta acqua Sì Anch'io sono venuto da qua Ok ok La memoria mi aiuta E allora È di una Efficienza Unica Quello è il mobile spawner Infatti Se hai visto Già stando lì Solo che voglio esserne Sicuro 100% 1-1 Nella serie Voglio Che sia il più efficiente possibile Illuminiamo anche qui Il andare a illuminare Là in fondo Non penso sia utile Perché non spona Gente là Che Il raggio di 16 16 Il diametro di 30 blocchi E 60 Tipo solo Su queste piattaforme Di mortacci Tipo solo su queste piattaforme Dicevo Potrebbe spawnare qualcuno E' questa è l'unica rottura Davvero Però come efficienza Siamo messi benissimo Ma ma lei Oh ma scendi Eh Parliamone Ok Parliamone No Su serio Parliamone Perché mi stai rompendo un po' I cabalzifi E' di qua che C'era Sì E' di qua Vabbè di qua è illuminato Perché c'è il tunnel Di qua sembra a posto Ok 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 Vediamo di qua Sì è illuminato Qua c'è addirittura lava Voglio provare a usare L'X-Ray Tipo qui Dentro Allora Ci sono un paio di caverne Che non ho esplorato Però la maggior parte E' illuminata Là c'è una Miniera abbandonata Quindi ci sono le torce Di default Lì c'è un grande chunk Ma cosa è sta nebbiolina? Vabbè Come vedete lì Quando mi muovo Lo vedete là sul lato C'è una zona in cui spawno uno mob Là c'è uno zombie E un creeper Per l'esaltezza Quindi quella dovrebbe essere Una priorità Per il resto Oh Ne abbiamo una qua dietro Questa è pericolosa Qua può spawnare tante gente Ok Ok Abbiamo una pericolosa Qui vicino Tipo qui sopra Andiamo a vedere Ah Vi ricordate quel progetto Di cui vi parlavo Là Tipo Tipo Minecraft Il network Insomma Il network Sul server Minecraft Micà Lo cazzo è sta la bestia Mi sembra Sono fuori strada Oppure mi sembrava qua vicino Magari è qua in alto Comunque Per ora siamo In quattro I canali Io Più altri tre Alcuni Alcuni ci sono già Hanno anche detto Che li ho invitati Ehm Però l'idea iniziale è quella di partire Non in tantissimi Penso ne cercherò un altro paio Massimo Massimo Ehm 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 E niente Poi penso che farò Una prova Di Di comunità Tra virgolette Perché Bisogna vedere come Come ci si trova Sul server A giocare tutti assieme Ehm Quindi ci sarà un primo server Che sarà Privato Cioè noi ci giocheremo Per Per fatti nostri E vedremo come va Ehm Ehm E poi eventualmente Ehm Ah Cioè Mi vieni sempre Della serie Che cazzo ci fai qua Vabbè E poi eventualmente Creeremo una serie Ehm Ufficiale Di Di sta roba Quindi no Così è giusto Che cazzo Due uova hai fatto Ah no Solo una O due Erano due Vabbè Bestia Sei una bestia Che cazzo fa Certo Vabbè Ehm E la Yala E quindi si Era giusto per Per informarvi Che questa potrebbe essere Una nuova serie Che sta per arrivare No tu scendi Devo scendere solo io Oh creeper Quasi quasi Io rimango tipo qui Tipo cos'era Tipo qui Una zona di Fk Mi sa che Di sì Così riesco a sfruttare Una buona parte Dei padiglioni Sento anche dei rumori Ok 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 Allora Tra questo episodio E il prossimo Mi metterò L'impegno Per raccogliere Tanto quarzo Tanta clay Anche se ormai La zona A sud Aspetta A nord Dell'isola L'ho Aspetta Da quando Ah ok Shift Mi compare anche Il coso Figata Vabbè Da quando Vabbè Ho Parimente Come si dice Polverizzato La clay Che stava Nella zona Nord Della costa Tipo Sulla costa Sulla costa L'ho presa Praticamente Tutta Nella zona Qua centrale Poi mi manca Un po' La periferica Della costa Nord Però Non so Quanta ce ne sia Devo Esplorare Della serie Finora Ho preso Clay Solo da lì E ho Già fatto Un bel po' Di roba Con la clay Tipo Qua sarà Tipo Un paio Di stack Di clay E devo ancora Finire Tra l'altro E Guarda quanti Cazzo Di Così Sento Oddio L'efficienza Di sta bestia E Cos'altro ho fatto con la clay Sai che non mi ricordo Avrò fatto qualcos'altro Eh si Ho fatto qualcos'altro Mi ricordo L'ho colorata anche in altri colori Però non mi ricordo cosa ho fatto È notte per caso No è giorno Si Giorno Alleluia Cosa ho fatto con la clay Vabbè Non mi interessa E Voglio usare anche tipo Il vetro colorato Nel nether Non so come Però voglio utilizzarlo di più Qua nell'overworld Con questo stile Che sto Adoperando Già tanto ce l'ho usato Per il Il faro E E sono riuscito a da più Parlo qua Questa casetta Mi piace un po' Tra l'altro E Ah E un'altra cosa Dobbiamo trovare Un compagno A A sto cavallo Di cui non conosciamo ancora il nome Tra l'altro E Quanti guardi ha 3 6 9 11 11 cuori Ciao Signore 11 cuori E E dobbiamo anche utilizzarlo di più Perché Cazzo Abbiamo un cavallo E non lo usiamo Un po' un peccato Quindi Questo per dire Che un altro Progetto Un altro progetto Sarà quello di creare Una Una specie di Diciamo Una specie di passaggio Si Che va su tutta la circonferenza La circonferenza Su tutto il perimetro Della Dell'isola Tipo qui Che c'è la riven Ci sarebbe un ponte Più piccolino Dell'altro Però Perché è giusto Per farci passare il cavallo Insomma Dato che L'obiettivo finale Di questa serie È Riempire Tutta sta isola Di questa serie Di questa stagione È riempire tutta l'isola Riempirla A bestia Bisognerà Anche Studiare Proprio L'urbanistica Della serie Tutto deve essere Molto accessibile Di qua di là Mi avete perfino Suggerito di fare La metropolitana Anche per raggiungere Tipo Non lo so La zona che metterò lì Che poi Ci parleremo Il prossimo episodio Perché Tutti i progetti strani E Usare la metropolitana Per quest'isola E sinceramente Non lo so Non lo so Perché andare Sottoterra Per raggiungere Delle cose così vicine Quando potrei usare Un cavallo Direi che il cavallo Vince A prescindere Comunque Comunque Ci vediamo Nel prossimo episodio Con Il progetto Del nether Ci impegnerà Penso per un paio Di episodi Perché È figo È figo Cioè L'idea che ho in testa È figa Poi non riesco mai A materializzarla bene Anche il faro Era completamente diverso È venuto bene Però era completamente diverso L'inizio Quindi sì Per questo episodio è tutto Io vi saluto Ciao Trudulo tutti Buone vacanze Aspetta Ho sbagliato